Ovviamente Elegance si occupa di eventi importanti. Siamo andati da Autosystem per un evento d'eccezione. Scopriamo di cosa si tratta con l'aiuto di Nadine Mangogna, una delle nostre Elegance Girls. Donne e motori, gioie e dolori. Ma non è vero, da Autosystem, viaggio numero 6 Palermo, tutto è più semplice, anche per noi donne. Con Elegance appuntamenti solo di tendenza. Siamo all'Autosystem, viaggio numero 6, per la presentazione della nuova Golf 7. Da Autosystem sto per parlare con Fabio Palesano, responsabile della comunicazione, perché per vendere una macchina bisogna appunto saper parlare e saper, diciamo, dare indicazioni giuste. Allora, parlami un po' dell'azienda, di Autosystem e della Volkswagen e poi della nuova Golf 7. Autosystem è concessionaria esclusiva Volkswagen a Palermo, provincia, e nasce due anni fa a Palermo. Oggi siamo qui per presentare la nuova Golf 7, l'auto, come sapete tutti, la più venduta al mondo. Parlami un po' di questa nuova auto, perché, ad esempio, io sono una donna, no? Si sa che le donne comunque non hanno molto a cuore il motore o tutto ciò che sta dietro. Qui che altro ne pensiamo all'aspetto estetico. Invece dal punto di vista proprio specifico, proprio delle caratteristiche della nuova Golf, in cosa si differenzia rispetto alla Golf precedente? Maggiore sicurezza, maggiore comfort e maggiore tecnologia. Questo è il nuovo motto della nuova Golf 7. Poi comunque vi aspettiamo anche qui in via C6 per venirla a provare voi stessi. E quindi posso fare un test drive oggi? Assolutamente sì, guarda, se vuoi andiamo anche adesso. Ah, dai andiamo! Approfitto dell'assenza di Federica per fare io il test drive. Sono Nadine, un Elegance Girl. Ecco dove era finita la nuova Golf 7 che io avevo dovuto provare. Nadine, allora dai, l'hai provata tu? Che guida? Allora, una guida abbastanza morbida, cambio DSG eccezionale, un ottimo rapporto peso-potenza. Ti sei passata una macchina favolosa. Va bene, dai, per questa volta ti perdono. Dai, vieni, vieni, andiamo, facciamo vedere la macchina. E siamo tutti al completo. Da Nadine, che ha appena effettuato il primo test drive della nuova Golf 7, a Fabio, che già abbiamo avuto l'occasione di intervistare. E adesso parliamo con Dennis, consulente alle vendite del Volkswagen. Parliamo un po' della nuova Golf 7 dal punto di vista tecnico. Innanzitutto un ben trovato a tutti. Venite a trovarci per scoprire la nuova Golf, naturalmente migliorata come performance con un nuovo telaio. Diminuita anche nei pesi, 100 kg in meno rispetto alla precedente. Nuove motorizzazioni riviste, tutte con Blue Motion Technology. Anche risparmio e prestazioni che sulla nuova Golf non possono mancare. E il colore perché è importante? Colore, una vasta gamma di colore, partire dal bianco pastello, al bianco parlato, nero metallizzato, grigi. C'è veramente una vastissima gamma colori disponibile anche in pronta consegna. Quindi non perdete l'occasione di venerci a trovare. Quindi per chiunque di voi volesse provare la nuova Golf 7, deve venire appunto in via ASI numero 6 alla Volkswagen Autosystem Palermo.